Onestamente eravamo convinti che a questo giorno qui e a questo anno qua avremmo risolto molti problemi. Quello che si chiede è il rispetto della volontà del popolo, rispetto della volontà dei nostri imprenditori che hanno creduto che fosse possibile migliorare le cose andando a votare per il referendum ed esprimendosi per un'autonomia spinta. Se giovedì la bozza del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata proderà in Consiglio dei Ministri resta scettico il mondo imprenditoriale veneto che il provvedimento lo attende da oltre cinque anni, dal 22 ottobre 2017. Il 53% tra i piccoli imprenditori padovani aderenti a confartigerato imprese in un sondaggio realizzato prima delle ultime elezioni politiche aveva risposto che l'autonomia non sarebbe mai stata realizzata, il 32% che si sarebbe fatta solo in parte. Per questo gli imprenditori pungolano il governo Meloni. Siamo pronti a misurarlo sui fatti, lo misureremo sull'autonomia. Un tentativo di migliorare le cose in realtà viene un po' insabbiato, viene un po' messo in secondo piano con problematiche magari che non vengono comprese benissimo. Ricordo che le imprese artigiane nella sola provincia di Padova sono circa 25.000, 24-25.000 con più di 60.000 impiegati in queste aziende e dunque sono una voce importante. Credono molto in questa riforma, ripeto i numeri dei referendum sono stati chiarissimi, dunque è difficile anche capire perché non si va davanti con la volontà popolare. Se il governo in questo momento appare deciso, l'attesa cresce tra imprese che ritengono il provvedimento sempre più necessario. Potrebbe essere che avendo una catena più corta, decisionale, amministrativa, burocratica, sicuramente noi troviamo dei vantaggi in questa cosa qua. In più, secondo me, è possibile un autocontrollo che si fanno le stesse regioni, le quali hanno solo interesse a vedere che le cose vadano bene e che non succedano cose strane.